Oh, dove mi porti? E' Ettore! E' bello, è come mio pozzerello, dai! Poi stiamo a iniziare la seconda parte di Raft Ok, aspetta e fa la seconda parte La prima, aspettate ragazzi Non ho qualche ascia Non ho detto niente Allora, prendiamo questo Ho preso un legno Allora, qua abbiamo da mangiare Guardali un altro! Fai Brava, brava, brava Dove mi porti? Dammelo a me No, 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 qua, qua, qua me lo metti Qua, 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 qua Dai, metti, metti, metti Brava! Sai che vuoi rifare? Dimmi se sono bravo, eh Guarda Ho preso questo, guarda, guarda Brava! Infatti vorrei fare un'altra cosa, vieni Qua lo vorrei mettere, guarda Qua, no? Gira Cioè, come questo, a muro E non si può mettere Ah, non si può mettere a muro Ah, mettilo, mettilo Certo, mettilo Che bello Questo qua volevamo noi, infatti Però siamo troppo poveri in questo gioco Quindi non abbiamo niente Ma io, infatti Vabbè Aiuto, ti cacci Non posso Perché devo prendere questo barrile Prendilo, prendilo Allora, io devo fare queste Bravo Ha preso tante cose, che bello, che bello Patate non le prendo mai? Io le prendo sempre Sì, certo È perché lei, ovviamente, la regina Dove metto un altro muro? Dove muro? Che tipo? Brava No, 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 no Mettilo qua Aspetta Dove? Mettilo qua Qua Ah, questo stai parlando Mettilo, mettilo Tranquilla E quando ti ritrovi un'altra volta Sti tipo di muri Di foglie Di legno Mettilo qua Sì, allora Tu mi devi prendere È Un filo È 18 legni 18 legni? Sì, io ne ho tre Io ce ne ho due E altri due tipi Dammi, dammi, dammi Eh, aspetta No, perché sto prendendo È che mi serve un filo? È, guarda Per fare un muro, normale Un muro Eh, allora che vuoi? 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 Lo faccio io No No, ma Appena mi ritrovo tutti Eh Mi devi dare tutto a me Almeno lo faccio Lo faccio anche pure Cosa è successo? Ah, scusa Ora mi cucino una patata Pure per me No L'ho cucinato Per schifo Eh Cosa? Ah, sì Intanto Vorrei fare un'altra cosa io Vorrei prendere queste Cavolo di piante Pure se io ho piante Mettilo, devo prendere Che c'è? Devo prendere sto muro Per fare un muro qua Prendilo Ma che cosa vuoi? Mi serve un filo Dammi un filo Perché sono bello Eh? Dammi un filo Filo, io fili non ce l'ho Come non ce l'hai? Zero 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 Zero, zero filo Dammi 18 legni I legni che hai, dammi I legni che ho? Eh Sì Eh aspetta quanto Quanto Guardi Tu raccogli Io faccio Ok? Va bene, va bene Eh Va bene, va bene Tieni Sì, non so fare niente Dici tu Cinque legni Ma lo vuoi? Eh, tieni Te lo sei preso E li dai di più Eh tieni Ok Ti do pure questi ferri Ti do Questi semi Ma sono sempre sei legni No, mente No, questo è mio No, ridammi l'ascia Se ti ritrovi l'altra Sì, ma ti ritrovi Ah, guarda sta Eh sì, perché se io te l'ho data Grazie Ok, dai Ah, si è caricato Eh, non posso Era bello? Infatti sto prendendo queste qua Per vedere se Questo muro voglio comprare Questo Bello, bello, bello No, è questo No, non te lo prendere questo Che no? Perché vorrei No, no, prendi Te lo prendi Scusate E mi manca un filo No, no Anche un filo Un filo Un filo Un filo Sì, sì E gli sottoletti Aspetta un attimo Che qua ci impalliamo Come l'ultima volta Te l'ho detto Se vuoi prenditi la patata Aiuto, aiuto, aiuto Mamma, questo qua Cent'ore ci voleva Mi sale nel legno Io ero già salito Eh, fai, dai Cosa? Mi devi dare ancora sti cose Il mio filo Ma io fili Non ce n'ho Cavolo Zitta Ora basta Ma fanno sti fili Ma come si fanno i fili? Da qua Quando ti fai raccorto due di questi Hai raccorto? Raccorto No No, niente qui dentro io Ah, una bella patatons Eh, grazie L'ho fatta io Davvero? Grazie Oh, ne ho cremato il filo Mi manca solamente il legno 18 Allora, tieni 4 Tieni, tieni, tieni tutto Ora ne ho 10 Tieni, tieni, tieni Eppure tieni il ferro per sicurezza Ma è qui Ma ferro ne ho 14 Di ferro? Eh E lo stesso Eh, che legno vuoi ancora? Non è normale E ora legno te lo raccolgo E poi, diciamoci Comunque ragazzi A Natale faremo un video natalizio Sì Eh, però La patata l'ho cucinata Eh, me l'hai cucinata dove? Nel forno Vado, vado subito a vedere Grazie 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 Cucinata troppo Tu non sai cucinare Come donna non sai manco cucinare Trova Tutta bruciata era Comunque un altro legno io Eh, dammelo Ne ho 12, 12, 13 E questo umore è trasparente Sì Ne mancano 6 Tieni Ce n'ho 3 Ce n'ho 3 Eh, dammi Tieni i ferro Me ne manco Tieni Tieni tutto tu Tieni Ora 3 Me ne mancano 3 Altri 3 Altri 3 E ora vedo come fa Aspetta 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 Giada Basta parlare Basta fare la tosta Che sei in questo periodo C'è legno C'è legno C'è legno Ok, preso Preso un legno Aspetta Prendile tutte e tre Non li dare Eh, sì Ma quanto ne devo prendere ancora? Ecco, fino al 20% Quanto ne devo prendere? No, no, è tre Ma casualmente un legno Un legno, eccolo qua Mamma mia Ce n'ho uno Dai, tieni Perché se muoio Te l'ho dato dietro E te la perdo tutto Se muoio E dammi tutto a me Perché io non sto benissimo Dammi tutto a me No Dammi tutto a me E quando ti serve Che cosa ti do La corrente L'occorrente Ma se io Sto prendendo la corrente C'è la da Dai, basta Fai Ragazzi, faccio il video E poi Dai Allora, ragazzi Mi guarderanno In bicicletta Non perdo tutto Ah, va bene Aspettiamo già La sbalonata Oh E' tre E' tre E' te l'ho dato già Uno legno E' tre Dietro Dietro di te c'è un legno Dietro, qua Si, si fa Ecco No, no, no Ve ne ho Eh? Vi ho perso tutti i legni Come? Io no Giada Non ti meriti di stare in questa bella Barca Secondo me no Ma Giada Come hai fatto a perderlo con un video? Come hai fatto a perderlo con un video? Ma fai schifo No, mi stancho Mi stancho Giada Tu sei nel video Fare soprattutto la tosse Ma tu hai la tosse? Mettiti la mascherina Hai la tosse tu Io sono tutta a posto In questo gioco? Si In questo gioco In questo gioco Io sto Hai la tosse tu Sto benissimo in questo gioco Io Si, guarda io Dov'è? Tutto bene ho Tutto bene? Fai il letto E fammi il letto E fammi il letto Aspetta A presto a te Ma Mettere Mi manco Per farti il letto Trenta ferri 45 45 Lenghi No, no, no O 55 No Wow, c'è anche l'albero di Natale Si, lo so Dai, muoviamoci Ecco Dai Guarda quanto legno c'è Qua tu non ti muovi un dito Giada Ma fai la seria Fai la seria Giada Dobbiamo fare Questo muro Si, lo so Ma se tu manco mi aiuti Aiuto e cosa? Giada Io sto pensando Che tu non vuoi giocare Io stai giocando Eh, no, no Tu lo stai giocando Perché Ecco Io ho l'unici Lilegni Lilegni Si, si Si, si Ma come ridi Eh? I lilegni Guarda c'è uno vicino a te Tu non lo prendi Infatti lo sto prendendo A prendere Aia Ecco il quadro Te l'hai preso Te l'ho preso Dammi Sto morendo Guardami Ettore Eh Guardami Aspetta Wow Ma vuoi da notare Che Che belle Che belle le mutande di questo qua Guardami Guardami La 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 L'altro te l'hai Si cosa Girati Eh Che vuoi Guardami a me Guardami a me Che lo so fare pure io infatti Guarda Ehi Ehi Voglio vedere gli altri Si Si No 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 Allora Hai visto questa cosa? Che? La sapevi Tutta 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 Mi dai Tutti sti mattoni No 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 Si cosa? Tieni 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 Te l'ho dati io Se forse Non li vedo Ma io te l'ho dati Non ce l'ho più Ma io non te l'ho dati Ma io non te l'ho dati E se faccio questo Build A te Mi dai soldi Mi hai fatto uscire Ho premuto il pulsante di uscire Vabbè dai Per ora ci fermiamo Perché sono undici minuti Dai Vabbè ragazzi Spero vi sia piaciuto Scrivete nel nemico Aspetta Giada no Una bella nuova Allora Sotto il video di Giada Sotto il video di Giada E sotto il video mio Dovete scrivere nei commenti Se volete un altro Un altro Episodio Con questo gioco Vabbè ragazzi Allora ciao